La tragedia che si è consumata nelle acque di Acitrezza ha trovato morto un giovane sub di 19 anni. Emanuele Finocchiaro era scomparso da ieri durante quella che purtroppo si è rivelata l'ultima sua immersione, il triste epilogo nella tarda mattinata. E' stato trovato morto il sub di 19 anni catanese Emanuele Finocchiaro che risultava disperso da ieri. Il giovane esperto di fotografia subacquea stava compiendo un'immersione nella zona dei Faraglione da Acitrezza per riprendere i fondali che dal porticciolo vanno sino ad Acicastello. Poco dopo la denuncia della sua scomparsa sugli scogli erano stati trovati gli effetti personali contenuti in uno zaino nero. Il corpo del giovane è stato recuperato addirittura a 27 metri di profondità dai sommossatori dei vigili del fuoco. Le ricerche erano state avviate già nel pomeriggio di ieri sia via mare che per via aerea grazie all'ausilio di un elicottero. Inutile le speranze della madre che stamattina si aggirava sulla porticciolo Trezzoto. Forse un malore potrebbe aver causato la morte delle 19enne che non è più riuscito a risalire a galla, tanto da essere poi recuperata addirittura a 27 metri di profondità. E adesso invece parliamo di un'altra storia scomparsa da casa domenica scorsa. Si cerca la 37enne che vedete in foto, Zaira Dagat. La sua macchina è stata ritrovata perfettamente parcheggiata via Vincenzo Giuffrida a Catania con la cappotta abbassata all'interno la spesa, soldi ed abiti. Della 37enne non si hanno più notizie. Da domenica scorsa, da quando è stata vista per l'ultima volta la piazzale Sanzio, visibilmente nervosa, come hanno riferito alcuni testimoni sulla sua scomparsa, indagano i carabinieri. E' traffico internazionale di marijuana dall'Albania alla Sicilia, blitz della Guardia di Finanza di Catania. Sono scattati 15 arresti, ma è il seguito dell'operazione Reset del 2013. Sentiamo tutti i dettagli. C'è un nuovo filone dell'inchiesta Reset della Guardia di Finanza di Catania che nel 2013 ha portato all'arresto di 24 presunti esponenti del gruppo della stazione operante a Catania e al sequestro in tre operazioni di oltre 3.500 kg di marijuana per un valore complessivo stimato in 70 milioni di euro. Fermate nella notte su disposizione del GIP del Tribunale etneo, 15 persone di nazionalità italiana ed albanese, a tre sono stati concessi gli arresti domiciliari. Sono accusate di traffico internazionale di stupefacenti. La droga, hanno accertato gli investigatori delle fiamme gialle, arrivava nella Sicilia orientale dall'Albania ed era destinata alle piazze dello spaccio di Catania. Individuati due gruppi, composti prevalentemente da albanesi da anni ormai in Italia, che facevano da tramite con loro connazionali per approvvigionarsi la marijuana. Il primo faceva base nel Lazio, l'altro invece in Sicilia, tra Catania e Ragusa. La droga, da quanto emerso dalle indagini, i particolari dell'inchiesta Odissea, così come è stata denominata, sono stati resi noti dal procuratore capo facente funzioni Michelangelo Patanè, e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza Roberto Manna, era destinata alle cosche catanesi ed in particolare al gruppo della stazione e a quello capeggiato da Paolo Di Mauro, elemento di spicco della famiglia Pillera morto lo scorso anno. Erano i clan che poi si occupavano della vendita al dettaglio della sostanza stupefacente attraverso una fitta rete di pusher. Lo spaccio di droga resta dunque una delle principali fonti di sostentamento delle organizzazioni criminali. Chi consuma marijuana pensando che si tratti quasi di sigarette deve tener conto invece che con questo consumo di marijuana si finanziano organizzazioni criminose di notevole spessore e si finanziano in modo molto consistente. Questa indagine ha consentito di trarre in arresto 15 soggetti, già altri erano stati arrestati in flagranza del reato, quindi ci sono soggetti ora di cui tre catanesi, tre della zona del Lazio e il resto sono degli albanesi. Diciamo degli albanesi poiché hanno una cittadinanza albanesa ma ormai da tempo sono inserite nel nostro territorio. L'operazione avviata nel 2012 e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catania ha consentito di individuare nel 2013 un deposito con 950 kg di marijuana a Scordia nel Catanese, due gommoni appena sbarcati in Puglia con un carico di 980 kg della stessa sostanza e due furgoni intercettati dai baschi verdi sulla statale 114 tra Cireale e Riposto con altri 1520 kg. La droga anche in questo caso è raggiunta via mare dall'Albania, sempre nello stesso anno arrestati con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, rapina, usura, armi e droga, i 24 indagati ritenuti appartenenti al gruppo della stazione. La marijuana in questo caso ha rappresentato l'anello di congiunzione tra i gruppi locali, i gruppi criminali, i mafiosi locali e gruppi di etnia albanese, gruppi dediti all'approvvigionamento all'estero e alla successiva rivendita di queste partite di stupefacenti ai clan locali. Adesso veniamo alla politica regionale, prove di ingresso in giunta da parte del nuovo centro-destra anche se non ufficiali. Il partito di Alfano si spacca di fronte all'invito del governatore Crocetta, domani intanto vertice decisivo fra i partiti protagonisti di questa nuova fase. A poche ore dal faccia a faccia tra Pd, Udc e nuovo centro-destra fissato per domani a Palazzo d'Orland e nella capitale che si compiono i passaggi fondamentali del Crocetta Quater, frutto dell'ennesimo rimpasto che in meno di tre anni porta il governo regionale a quota 45 assessori. Giornata romana decisiva per il segretario siciliano dei democratici Fausto Reciti che dopo l'apertura del partito di Alfano per le riforme spinge piuttosto per un'alleanza uguale a quella sperimentata nel governo nazionale, la strada su cui si lavora da Roma a Palermo e dunque quella che porterebbe in giunta il nuovo centro-destra. Un'ipotesi ufficialmente scartata dagli alfagliani ma smentita dai retroscena delle ultime ore, soluzione che piace all'Udc, che potrebbe così recuperare le poltrone perdute. Di fronte al bivio si spacca il partito di Alfano. Secondo i rumors ci sarebbero soltanto da decidere in modi e tempi due le ipotesi. Una giunta politica con esponenti del nuovo centro-destra targati area popolare, il costituendo gruppo ARS frutto della fusione con i centristi, o un ingresso graduale con un tecnico gradito agli alfagliani al posto dell'ex assessore Linda Vancheri, nodi che il vertice di domani dovrà sciogliere. Ma l'apertura del nuovo centro-destra sulla carta soltanto per velocizzare le riforme utili al rilancio dell'isola è già bastata ad alimentare le dure critiche dell'opposizione che bolla l'operazione come cancro del ribaltonismo e nello stesso tempo tiene in fidillazione gli inquilini di Palazzo dei Normani per il rinnovo delle commissioni. A fare la parte delle une sarà il PD, ma alcune presidenze toccheranno proprio al nuovo centro-destra. In tutto ciò il governatore Crocetta ribadito in sì all'allargamento della maggioranza. La decisione di collaborare passando dall'opposizione al sostegno responsabile un passo avanti significativo ha detto, ma le avanze da un palazzo all'altro al nuovo centro-destra già da tempo non sono più un rebus. Adesso parliamo di servizi al cittadino. Novità dalla SOGIP, la partecipata del comune di Acireale che gestisce il servizio idrico ed il gas. Arriva la telelettura, numerosi i vantaggi per i cittadini ma anche per l'amministrazione. Ce ne parla Salvo Cutuli. La SOGIP entra nell'era digitale e lo fa installando un apparecchio elettronico di telelettura in tutti i contatori di acqua e gas a servizio dei circa 30 mila utenti accesi allacciata alla rete della partecipata del comune. Una rivoluzione che una volta a regime garantirà minori costi di gestione del servizio e l'azzeramento di errori in bolletta, soprattutto nelle delicate fasi di conguaglio di fine anno quando per errore di calcolo agli utenti sono state recapitate le cosiddette bollette pazze con costi proibitivi e polemiche a non finire. Eccolo il macchinario che consentirà agli operatori della SOGIP di aggiornare i costi del consumo di acqua e gas da una centrale elettronica che verrà allestita nella sede centrale di via Francesco di Paola e governata da un potente computer che raccoglierà tutti i dati del singolo utente senza commettere errori. Questa scatoletta di colore grigio è un concentrato di tecnologia che raccoglie gli impulsi dei contatori e li trasmette a delle centraline radio dislocate sul territorio per poi convogliare il tutto nel cervellone elettronico della società. Per il momento il servizio è in via sperimentale ed è rivolto alle utenze più remote e a quanti ne hanno fatto richiesta. Entro due anni al massimo, assicurano i tecnici della società di acqua e gas, verrà installato nelle quasi 30 mila famiglie servite. Un gigantesco passo avanti verso l'innovazione tecnologica a tutela dei cittadini e il consistente risparmio per la partecipata del Comune che non dovrà più inviare i propri operatori ad effettuare la lettura manuale dei contatori. Abbiamo cercato di mettere a punto un sistema di rilevamento delle letture per i consumi a distanza in modo da noi economizzare sui costi di rilevamento e il cliente avere il vantaggio di pagare quello che realmente consuma. Quando sarà a regime questo impianto così innovativo? Ma già stiamo montando i primi contatori dell'acqua e entro due anni contiamo di completare tutto il parco contatore con questo sistema nuovo di lettura mentre per il gas contiamo anche forse entro un mese. Adesso invece parliamo a Catania di viabilità perché da stamane dalle prime ore del mattino la circonvalazione di Catania lungo la corsia che va da Montepò ad Onina interessata da lavori di rifacimento del manto stradale come vedete appunto dalle immagini i lavori che sarebbero dovuti partire ieri ma erano stati rinviati per questioni tecniche necessarie a tutela della pubblica incolumità a causa dei danni provocati dall'asfalto a causa delle fortissime piogge e del maltempo degli ultimi giorni. I lavori sono partiti dalla rotatoria di San Nullo e riguardano la copertura delle varie buche in maniera progressiva man mano che verranno ricoperte il cantiere si sposterà fino ad Ogni nella corsia stradale e tornerà quindi alla normalità nel tratto completato. Il tutto si concluderà entro questa settimana dice l'amministrazione o al massimo entro i primi giorni della prossima. E adesso invece parliamo di promozione dell'ambiente e della natura la fortezza del tocco di Acireale diventa un presidio di legambiente c'è un accordo infatti, una convenzione al via un progetto che coinvolgerà moltissimi giovani. Sentiamo. La suggestiva fortezza del tocco lungo il percorso delle chiazzette di Acireale per i prossimi 18 mesi sarà gestita da legambiente che si è giudicato un bando ministeriale denominato un tocco di ambiente, cultura e futuro sviluppato assieme ad altri enti ed associazioni del territorio e con il coinvolgimento di ragazzi e ragazze del posto interessati a percorsi paesaggistici unici e di grande interesse turistico. L'iega ambiente disporrà insieme al Corpo Forestale dello Stato dell'antico bastione di avvistamento e attraverso il progetto governativo garantirà un presidio maggiore dell'area spesso preda di vandali e incivili che ne deturpano i luoghi soprattutto durante le scorribande notturne. Le chiazzette che collegano il quartiere Suffraggio con la frazione a mare di Santa Maria alla Scala meriterebbero maggiore considerazione istituzionale e adeguati progetti di rilancio a sfondo ecologico della Timpa analoghi piano di sviluppo e promozione delle aree rurale e boschive negli ultimi anni hanno preso piede un po' ovunque in Europa apportando benefici economici ed occupazionali. A Cireale tra il costone a verde della riserva della Timpa e l'area gazzena può giocare un ruolo di primo ordine nel turismo naturalistico che si sviluppa sull'asse mare etna. L'amministrazione Barbagallo ci crede e intende avviare progetti mirati in collaborazione con l'associazione Denti a tutela di paesaggi e aree rurale fruibili a turisti e villeggianti presenti in città. Ringraziamo Legambiente per aver partecipato a un progetto che il Ministro della Gioventù ormai qualche anno fa ne ha avuto il positivo accoglimento e quindi siamo lieti di confermare questo affidamento a Legambiente, un progetto di 18 mesi che partirà speriamo presto e che consentirà di affidare per questo periodo di tempo la gestione della fortezza del TOC a Legambiente. Questo significa che la fortezza sarà presidiata costantemente, oggi lo fa la forestale ma con Legambiente saranno avviate tutta una serie di altre attività, non solo il progetto ci consentirà anche di dotare la fortezza e le chiazzette di alcune attrezzature e di videosorveglianza e di illuminazione che ancora manca. Quindi ci sarà sicuramente un miglioramento della zona e una maggiore godibilità e fruibilità per tutti i visitatori riaccesi e anche esterni. E di tanto è tutto pronto anche per quest'anno, per la nuova edizione di Eno Etna 2015 a Santa Venerina. Si parte già domani, si va avanti per due weekend consecutivi. Sarà una settimana ricca di avvenimenti, quella che contraddistingue la diciannovesima edizione di Eno Etna in programma a Santa Venerina. Il clou dell'evento nei due fine settimana, il 19 e 20 settembre, il 26 e 27 settembre prossimi. Il ricco programma dell'evento prevede degustazioni, mostre, convegni, visita alle cantine, spettacoli e cene a tema, oltre all'attesissimo palio delle botti. La manifestazione è stata presentata ufficialmente stamattina alla stampa. Eno Etna quest'anno si caratterizza per un'attenzione particolare alle distillerie. È chiaro che il vino è sempre il protagonista della nostra manifestazione, ma la peculiarità di Santa Venerina sono le distillerie. Quest'anno le celebriamo con una mostra documentale, una mostra fotografica e con una conferenza a cui parteciperanno i distillatori storici di Santa Venerina, quelli che sono ancora in attività e poi ci sono delle degustazioni in diversi posti del paese, nella storica pasticceria russo, per esempio ci sarà il giorno dell'inaugurazione, ci sarà una degustazione particolare, ce ne sarà un'altra giorno 26. Eno Etna si caratterizza per una dualità. da un l'altro è festa, la festa del paese, quindi con tutto ciò che fa anche folklore. Ci sarà un bellissimo palio delle botti, giorno 20, mattina, in cui si sfideranno tutte le città del vino, i paesi delle città del vino, con una sfilata di bambini che sarà una cosa molto carina. E poi però ci sono anche le degustazioni tecniche, a cura delle associazioni che si occupano, delle associazioni di sommelier, ci sono anche quest'anno le scene tematiche. Giorno 26 settembre una cena dedicata alla cucina greca e romana e alla sua influenza nella cucina siciliana, una cena dedicata alla cucina araba e una dedicata alla cucina franco-spagnola. Si apre col botto la prima sera, il 19, ci sono i lautari e poi ci sono altri concerti, musica blues, miscaritta, musica sicula e un concerto, e chiudiamo con un concerto dell'opera sotto le stelle a cura dell'associazione Santa Cecilia. Lo sport con le ultime del calcio Catania in vista del debutto ormai vicino a Matera. Francesco Larosa. Ultimi giorni di mercato intensi per il calcio Catania. La dirigenza sta cercando di acquisire le prestazioni di calciatori importanti per la categoria che possano consentire di fare il salto di qualità. Ieri sono arrivati Pelagatti dall'Ascoli e Bergamelli dall'Novara, così come dalla società piemontese è arrivato anche Garufo. Per l'attacco sembra soltanto questione di qualche ora per la firma definitiva sul contratto di Gianvito Plasmati, l'attaccante che in passato ha già vestito la maglia rossa-azzurra. Intanto però si pensa al debutto in il campionato previsto per la domenica prossima a Matera. Bisogna subito pigiare le piede sull'acceleratore per cercare di recuperare quanto prima possibile il gap di 9 punti di penalizzazione. Per il ruolo di portiere la scelta della Catania è caduta su Bastianoni, preferito a Polito. Scalpita comunque sempre nello stesso ruolo di estremo difensore. Anche Luca Liverani ha guerrito quanto mai a giocarsi il posto da titolare. La piazza mi ha spinto, il nome della società che mi ha chiamato in questo momento mi ha spinto a venire qua perché comunque ripeto la società Catania Calcio è la più forte che ci sia in Lega Pro in questo momento. Noi se siamo qua è una fortuna. La Lega Pro è difficilissima perché ogni partita che giochi contro la più forte o la più scarsa è sempre difficile perché tutte le squadre mettono in campo la voglia e la grinta come se non ci fossero domani. Per noi dobbiamo metterci il 200% per riuscire a battere gli avversari che non esistono scarsi, forti. Noi penso che quando giocheremo la domenica al Massimino sarà il dodicesimo uomo in campo perché comunque stadi così è difficile trovarli. La fortuna di fare allenamenti e mettere a disposizione noi e la gente che ci viene a vedere è fondamentale perché così impara a conoscerci e ci sta sempre vicino. Per noi è fondamentale questo. Il gruppo sta crescendo piano piano perché siamo arrivati più o meno tutti da poco però il nostro obiettivo prima di tutto è crearlo perché è fondamentale. Io dalle mie esperienze che ho avuto le migliori sono venute grazie a questo perché il gruppo ti aiuta in qualsiasi modo. Non ci sono aggiornamenti, termina qui questa edizione di Ora Tg, vi ricordo che potete seguirci anche sul sito internet www.reitv.it e attraverso la pagina Facebook di Reitv. Grazie dell'attenzione e vi lascio alle previsioni del meteo. Arrivederci. Le previsioni meteo per la giornata di venerdì 18 settembre. Cielo sereno su tutta la Sicilia, mari calmi, venti deboli. Le temperature in rialzo nell'isola al di sopra della media stagionale usciranno da 37 a 17 gradi.